Non volevamo diventare eroi, ma semplicemente provare a guardare le cose da una prospettiva nuova. Crescendo in Sicilia siamo state abituate a vedere le arance intorno a noi, fanno parte del paesaggio. Adriana ed io ne siamo state circondate sin da bambine. Per noi sono molto più che semplici frutti, sono opportunità se guardati con occhi creativi. Solo in Italia ogni anno vengono prodotte più di 700.000 tonnellate di sottoprodotto di agrumi. Adriana con una formazione in design ha usato porsi la folle domanda e se si potessero trasformare le bucce di agrumi in abiti? Mi ha coinvolta ed insieme abbiamo iniziato a cercare una risposta. Per verificare la fattibilità della nostra idea abbiamo coinvolto il Politecnico di Milano. Giorni, settimane e mesi di duro lavoro in laboratorio. Decine di test per cercare di sviluppare un processo efficace. Oggi abbiamo un meraviglioso tessuto nelle nostre mani. È sostenibile, biodegradabile e rappresenta un grande passo avanti verso un'industria della moda più rispettosa dell'ambiente. Una mente aperta può portarti lontano così come la creatività ma dobbiamo fare questo percorso insieme. Il futuro non è un luogo dove andare ma un luogo da creare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.